Brindisi, città europea dello sport 2014 Poco dopo Moonshine, quindi secondo in classifica a tempo reale, è stato il FAR 47 AIG5 Polymor, altra imbarcazione della Lega Navale Italiana di Pesaro, seguita dall'ICE Yacht 62 Buenavista del Circolo della Vera di Bari. Una gara combattuta che ha visto il suo epilogo nella nota zona davanti all'arcipelago che precede l'isola di Corfu, dove il famigerato buco di vento non ha perdonato neanche questa edizione della 29esima regata internazionale Brindisi-Corfu. Ed è proprio qui che si è decisa la vittoria nel corso della gara, infatti gli equipaggi hanno potuto sfruttare per buona parte del percorso un vento di maestrale sufficiente a spingere la testa della flotta su medie di 12-13 nodi. Per quanto riguarda i maxi, a spuntarla è il FAR 80 Idrusa Brinmar Shop Monte Fusco Sailing Project del Circolo della Vela di Brindisi, che gusta la vittoria dopo un vero e proprio match race contro la barca gemella Team Sistiana del Circolo Porto Nautico di Sistiana. Una gara svoltasi alle 4 di questa mattina quando i due equipaggi erano appaiati e scelte diverse hanno portato l'imbarcazione brindisina a tagliare per prima il traguardo.